Urta un'auto in sosta e scappa senza preoccuparsi delle gravi conseguenze che quell'impatto ha causato. È stata una notte movimentata in Viale Costanza sul Mona dove intorno alle 3.30 un'auto in transito probabilmente a velocità sostenuta è andata a sbattere contro una Iaris che era parcheggiata nei pressi della tabaccheria. Il rumore dell'urto è stato avvertito dai residenti della zona che si sono svegliati nel cuore della notte e ora sono a disposizione della polizia che si è recata sul posto per i rilievi di rito con la speranza di risalire all'auto pirata magari verificando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei punti di accesso della città. Vista la tarda ora è probabile che il numero di autovetture in circolazione non era poi così elevato ma il compito per gli agenti del commissariato non è affatto facile. A fare la marascoperta questa mattina è stata la proprietaria dell'auto che uscirà di casa per raggiungere posto di lavoro e ha notato che la sua Iaris era completamente danneggiata. La donna non è riuscita nemmeno ad aprire la portiera e subito si è messa in contatto con i 113. La polizia ha effettuato tutti gli accertamenti del caso ascoltando anche alcuni residenti che si sono svegliati a facciali da balcone senza vedere l'auto pirata. Gli inquirenti stanno verificando se qualche abitante della zona è riuscito a prendere la targa o a notare qualche dettaglio che può essere utile alle indagini. Le verifiche continuano con la speranza di risalire gli autori del gesto assolutamente da condannare. Grazie a tutti. Grazie.